Ciao ragazzi, finalmente siamo arrivati nel parcheggio dove lasceremo le nostre moto mentre visiteremo l'Italian Biker Fest diamo una controllata alla nostra temperatura, assicuriamoci di avere la mascherina rispettiamo tutte le norme e andiamo a divertirci grazie a tutti sono seduto all'interno della Custom Show Zone dove possiamo trovare tutte le moto modificate da tanti preparatori sono molte le marche e i modelli presenti devo dire che c'è qualcosa di molto interessante mi sono soffermato a vedere tante preparazioni su Scrambler, Cafe Race e ho trovato anche delle bagger molto interessanti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube, non dimenticate anche di seguirmi nella pagina Instagram, dove posterò tantissime foto inedite di questo raduno a Lignano. Grazie ancora per avermi seguito, vi auguro un buon weekend e buona strada.